Rischia di allargarsi il caso del sacerdote pisano che oltre 20 anni fa avrebbe molestato due bambini. Dopo la denuncia dei due fratelli ormai adulti che hanno fatto partire il processo canonico portando all'immediata sospensione del religioso, adesso altre possibili vittime potrebbero essere sul punto di farsi avanti. Nelle scorse ore un adulto avrebbe contattato un sacerdote della diocesi di Pisa per rivelare di aver subito, quando era minorenne, abusi dallo stesso prete, oggi 73enne. Non solo a Pisa ci sarebbero stati alcuni incontri organizzati da un gruppo di ex parrocchiani del religioso sospeso nel quale i partecipanti, tutti accomunati da presunti abusi subiti, si sarebbero sfogati a vicenda e starebbero valutando le prossime mosse. Nel caso dei due fratelli il processo canonico sarebbe arrivato ad ottenere la confessione del religioso, come sembra emergere anche dalle parole dello stesso vescovo di Pisa, Monsignor Giovanni Paolo Benotto, che nell'accoglierne le dimissioni ha scritto una nota nella quale esprime profondo dolore e vergogna per quanto è stato denunciato, ma aggiunge anche, chiedo perdono a chi ne è stato vittima, con il verbo all'indicativo senza condizionale. I due fratelli potrebbero intentare causa civile per chiedere un risarcimento, al sacerdote o alla diocesi, alla procura di Pisa che potrebbe aprire un fascicolo d'ufficio. Al momento non sarebbe arrivata alcuna notizia di reato.